Una bufera politica ed istituzionale, quella provocata dall'arresto ad essa ai domiciliari di Maurizio Croce, commissario straordinario del governo regionale, per il dissesto idrogeologico. Le accuse sono pesanti. Croce è indagato insieme al suo uomo di fiducia, Francesco Carmelo Vazzana, anche lui ai domiciliari, e l'imprenditore, sospeso, Giuseppe Capizzi, sindaco di Maletto, per una serie di fatti corruttivi nell'ambito dei lavori di riqualificazione ambientale del torrente Bisconte a Messina. Rolex, lavori edili gratis e mazzetti, oltre a finanziamenti illeciti in campagna elettorale, ecco quanto avrebbero appurato i finanzieri messinesi su disposizione della direzione distrettuale antimafia. Un'indagine partita da un controllo disposto dal prefetto di Messina sull'azienda a cui erano stati affidati i lavori. Una perquisizione della Procura, inoltre, ha sventato due truffe, una sui pari da posizionare nel cantiere, l'altra sul conferimento dei rifiuti in discarica. Croce è stato candidato a sindaco a Messina nel 2022 con il centrodestra e consigliere comunale sempre a Messina. Recentemente il presidente della regione Schifani lo aveva designato come suo rappresentante nel comitato di gestione dell'autorità portuale dello stretto preludio di una vociferata nomina presidente. Lo stesso Schifani ha annunciato che valuterà con l'ufficio legale gli interventi necessari da assumere. Antonio De Luca, deputato dei Cinque Stelle, invece definisce gli arresti una grave sconfitta per la politica regionale e l'ulteriore prova che la corruzione è una vera emergenza sociale che va contrastata in tutti i modi, in tutti gli ambiti. Mentre il vicepresidente del Sud chiama Norris, Maele Lavardera, parla di scenario inquietante su Croce. Penne anche un procedimento per la sua decadenza da consigliere comunale a Messina. Finestre serrate, bocche cucite, ma cauto ottimismo. Sulle sorti di Mohamed Hussein Khalifa, il bambino tunisino di dieci anni scomparso nella notte tra il 12 e il 13 marzo da un'abitazione di via Vittorio Emanuele 124, la Santa Maria di Licodia. Le ricerche dei carabinieri di Paterno sono andate avanti per tutta la notte. Sembra che il bimbo, perfettamente integrato in paese, si sia allontanato spontaneamente dall'abitazione messa a disposizione alla famiglia, dalla comunità Irite, nell'ambito di un progetto di inclusione. Del caso ieri sera si è occupata anche la trasmissione di Ray 3, chi l'ha visto? Le forze dell'ordine hanno diffuso una foto. Mohamed è alto 1,45, pesa 50 kg e l'ultima volta è stato visto con un pigiama di colore scuro. Squilla in continuazione il cellulare del sindaco di Santa Maria di Licodia, Giovanni Butto, in stretto contatto con le forze dell'ordine. Io mi auguro che sia stata una bambinata e che il bambino possa essere trovato il primo possibile e che comunque stia bene, perché la cosa più importante è questo, stiamo parlando di un bambino di 10 anni, quindi che è trascorso una nottata fuori, quindi io mi auguro che il bambino stia bene, sono fiducioso perché comunque mi sono sentito con l'arma dei carabinieri e quindi stanno seguendo una pista e loro sono molto fiduciosi, quindi io confido nel lavoro dei carabinieri, confido nel lavoro delle forze dell'ordine, quindi mi auguro che il tutto si possa risolvere soltanto con questa grande paura che abbiamo avuto tutta la comunità, le codieze. Non si parla d'altro in paese che adesso attende solo il dieto epilogo della vicenda. Paola Pepe, 58 anni, accusata di avere provocato la morte della prozia ottantenne Maria Basso per entrare in possesso della sua eredità, resta ai domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico. La decisione arriva dal Tribunale del Riesame di Catania che ha rigettato la richiesta del difensore della donna, Carmelo Peluso, e confermato l'ordinanza di custodia cautelare. La donna era stata arrestata il 22 febbraio con l'accusa di circonvenzione di incapaci e omicidio aggravato. Non convincono dunque le tesi difensive per le quali Maria Basso considerava Paola Pepe una figlia mancata. Secondo la procura di Catania, l'indagata alcuni giorni prima del decesso della donna avrebbe invitato Maria Basso a pranzo fuori con l'ottantenne che avrebbe mangiato spaghetti e un dolce, nonostante una malattia invalidante, l'obbligasse a ingerire solo cibo omogeneizzato. E questo ne avrebbe cagionato la morte per polmonite. Maria Basso, infatti, è morta il 16 dicembre 2022 in una casa di cura di AC Castello, dove risiedeva da 15 giorni e dove l'aveva portata da Asiago l'indagata, da poco nominata dalla prozia, erede universale. Se la signora Basso è morta per l'ingestione di cibo solido e tornato a sottolineare il legale Carmelo Peluso, bisogna tenere presente che non si può uccidere una persona disfagica facendole mangiare degli spaghetti perché non li può deglutire. Ha mangiato spaghetti triturati e fatti a poltiglia, così come ha fatto altre decine di volte. Grazie. Grazie. Quella di Lucky, 24 anni nigeriano, giunto su un barcone in Italia. nel 2018 è la storia di un giovane uomo che a dispetto dell'indifferenza imperante non si è girato dall'altra parte. Mentre correva all'ufficio passaporti della questura di Catania, ha notato un'auto parcheggiata sul viale Africa con un deflettore spaccato e dentro qualcuno che frugava sotto i sedili, per lui un fatto inequivocabile. ha chiedito questa tua macchina, lui ha detto no vai via, io già sapevo, ho visto il vetere spaccato, io già sapevo questo sta rubando qualcosa dentro, io ho tenuto lui, lui voleva scappare, io ho tenuto i vestiti, il tempo sta passando due polizia, lui ha detto questo sta rubando il bossolino. Gli agenti sono arrivati subito bloccando la colluttazione tra Lucky e il ladro con un finale ovvio, le manette al giovane tunisino, che si è scoperto essere vittima del crack e con una vita fatta di espedienti e piccoli furti. Ha dimostrato che chiunque può farsi e scoprirsi difensore della legalità, a prescindere che indossi una divisa, a prescindere dal colore della pelle e dal colore della bandiera. Lucky è felice per aver evitato un ulteriore danno al proprietario dell'auto e per l'opportunità che gli diamo di lanciare un appello al tunisino fermato e a chi delinque. Tu devi cercare lavoro, perché non è difficile, io ho fatto tanti lavori, io ho fatto lavapiazze, ho fatto campagna, togliere il pepericino, per favore stiamo vicini senza rubare più, perché se noi vicini siamo fortissimi a fare vita andare bellissimo. Per questo ragazzo con la legalità nel cuore, ex aiuto cuoco, un titolo di scuola media preso a Catania, l'orgoglio di sostenere gli studi delle sorelle in Nigeria e un lavoro in una ditta di disinfestazione, il presente a Catania è bellissimo. Resti a Catania, vuoi rimanere? Certo, io prima sono andato a Milano, ma sono tornato a Catania, non c'è niente più a Catania, Catania è bellissimo, posso vivere facilissimo, bellissimo a Catania. Ciao a tutti! Una nuova iniziativa per contrastare il caro voli che attanaglia la Sicilia da anni. Dal 15 marzo e fino al 31 dicembre tutti i residenti siciliani che viaggeranno verso qualunque aeroporto d'Italia avranno uno sconto sulle tariffe aeree del 25%, alcune categorie deboli avranno un ulteriore 25% caricando i biglietti nell'apposita piattaforma creata dalla regione siciliana. Lo ha annunciato questa mattina il presidente della regione Renato Schifani nel corso della conferenza stampa convocata per illustrare le nuove misure messe a punto dal governo regionale per contrastare appunto il caro voli. I nuovi sconti entreranno in funzione a metà marzo, quindi sin da subito. Si parte subito, tra qualche minuto sarà pubblicato il decreto presso il sito dell'assessorato regionale ai trasporti, è un decreto assessoriale. Tutti coloro che partiranno dal 15 marzo in poi potranno ottenere lo sconto, anche se il biglietto è stato acquistato qualche giorno prima. Schifani ha sottolineato in 15 mesi abbiamo fatto un autentico miracolo siciliano per combattere appunto il caro voli. Siamo in un'economia di libero mercato e ogni compagnia applica le proprie tariffe. Aumentare la concorrenza, aumentare il numero di vettori che possano servire alla Sicilia, su questo noi stiamo lavorando, abbiamo ottenuto che venisse un terzo vettore del quale ho parlato all'Aero Italia che ha rotto quel cartello, ci auguriamo e lavoreremo con l'assessore per incentivare altri vettori a raggiungere la nostra terra. La mafia c'è ed è potente, ma per fortuna c'è anche lo Stato con la sua capacità repressiva, quella che arretra invece la società civile. E' quanto emerge dal rapporto della Commissione Parlamentare Regionale Antimafia che ha svolto un lavoro di analisi della situazione nell'isola. Sono stati sentiti 302 amministratori locali dei 391 comuni siciliani e alla fine ne esce un quadro in bianco e nero dove le tonalità di grigio sono più dei bianchi. A preoccupare sono soprattutto le estorsioni. C'è un aumento del dato estorsivo con una pericolosa compiacenza che non è più solo la paura di denunciare, ma in alcuni casi i segnali che arrivano è che ci sono degli estortori che sono a loro volta estorti e viceversa. Cioè il sistema dell'estorsione vede anche una connivenza da parte degli estorti. Arretra intanto il numero di associazioni anti-racket anche perché la legislazione arretra a sua volta sul fronte delle contribuzioni e si assiste sempre di più a episodi di infiltrazione mafiosa nell'economia legale e persino di imprese regolari che cercano sostegno da parte dei boss per evitare guai. Abbiamo moltissimi casi di imprenditori che si mettono loro stessi a servizio delle cosche mafiose con la cosiddetta messa a posto. Ci sono casi nei quali sono le imprese a cercare i mafiosi per mettersi sotto il loro dominio. Infine la gestione dei beni confiscati ha creato criticità che hanno costretto molti comuni dell'isola a fronteggiare diverse emergenze come il mancato sgombero di immobili o la loro preoccupazione abusiva attraverso l'intimidazione, le condizioni infantiscenti dei beni assegnati o la scelta di amministratori giudiziali non competenti in un determinato ramo dell'azienda sequestrata che hanno portato a far emergere l'opportunità per i comuni di costituirsi in consorsi per la gestione degli stessi beni. Don Fortunato, lei ha definito l'intelligenza artificiale una nuova avventura, perché? È un'avventura, perché pur generata dall'intelligenza dell'uomo, perché non dobbiamo dimenticare che è questa la sua origine, ci pone ovviamente in una strada totalmente nuova. Primo, per la questione delle grandi opportunità che l'intelligenza artificiale dà nella sua straordinaria capacità della memoria, dell'analizzare i dati che immettiamo noi nelle macchine. Evidentemente questo contribuirà ad una questione legata al lavoro, alla sicurezza, alla questione legata alla sanità, alla salute. Quindi noi troveremo una intelligenza artificiale che è capace di generare aspetti generativi positivi. Dall'altra parte, evidentemente, tutto questo deve essere sicuramente, così come hanno già definito i guru, coloro che stanno già pensando di creare un regolamento, un'etica. C'è stato un blizzagela nei giorni scorsi e c'è un'emergenza educativa, perché la via dell'illegalità sembra più facile da percorrere. Perché? Se c'è un'emergenza educativa è perché non viviamo un'avventura educativa, perché forse probabilmente siamo troppo convinti che i nostri ragazzi non hanno bisogno più dei punti di riferimento. Forse siamo più convinti che i nostri ragazzi vivono solo di influencer. Molti giovani pensano che i social siano la fonte di informazione. Si può rimediare a questo oppure è troppo tardi? Allora, i social di per sé non sono fonte di informazione, ma sono forme di aggregamento, di aggregazione. Certamente passa anche l'informazione, però bisogna educarsi ad una criticità per leggere le informazioni. Oggi credo che dobbiamo fare delle scuole. Mi appello ad esempio al mondo del giornalismo, al mondo dell'informazione. Ortigio è invasa dagli studenti. Centinaia di ragazzi fuori dalle aule per ricordare il grande Archimede. 14 marzo, 3.14, è il Pi Greco Day. Abbiamo visto una reazione di precipitazione nel quale abbiamo ottenuto il pigmento giallo Van Gogh. Il liceo scientifico è in Audi con diversi istituti comprensivi della città nel centro storico per una giornata di festa. Tutto all'insegna della scienza. Questo qui è una rappresentazione del modello standard. Sarebbe il modello che attualmente spiega meglio tutto sulle particelle. All'interno ci sono tutte le particelle che noi conosciamo, tra cui il bosone di X, il più particolare, che è stato scoperto al Cerni di Ginevra dove noi siamo andati. Per qualche ora Piazza Duomo diventa il centro del sapere scientifico. Qui ci troviamo nella sedia di Ortigia del Duomo per festeggiare quello che è il Pi Greco Day e il grande Archimede tramite degli esperimenti chimici. Ma in giro per i vicoli c'è anche una caccia al tesoro. 14 postazioni e 3 ore e 14 minuti di tempo per risolvere il tutto. Gli enigmi sono in questi QR code. 500 ragazzi che rispondono a determinati stimoli. Sono 14 tessere dello stomacchio di Archimede. Ogni tessera ha un quesito e la squadra che avrà raccolto più tessere vincerà. Siracusa quindi celebra il suo genio con la speranza di non dimenticarlo mai. Il messaggio di pace e solidarietà e fratellanza tra i popoli che caratterizza e tramanda la festa del mandorlo in fiore ad Agrigento coinvolge anche le nuove generazioni. Infatti questa mattina le scuole hanno incontrato le delegazioni e gruppi folk partecipanti alla manifestazione. In Piazza Cavour, nel cuore della città dei Tempri, gli studenti hanno conosciuto usi, costumi e tradizioni di altre confine, riconoscendo e condividendo il valore della concordia e dell'amicizia. Rappresenta un periodo di pace e di unione, ma deve essere celebrata anche sempre. Per me la giornata del mandorlo in fiore è un modo per conoscere costumi, tradizioni e musica che vengono da altri paesi del mondo. Rappresenta un'unione tra tutti i popoli di culture, tradizioni, religione e costumi diversi. Siamo divertiti, abbiamo visto vari gruppi, abbiamo visto vari gruppi cantare, ballare, è stato molto bello. Basta guerra e sempre pace. Sul palco sono esibiti i gruppi protagonisti del Festival Internazionale del Folclore. Domani pomeriggio sarà la volta della suggestiva e significativa fiaccolata dell'amicizia. Tutti i gruppi sfideranno tra piazze e strade. Nelle mani tante fiaccole, auspicio il nuovo giorno migliore. Obiettivo ripartenza. Quattro partite senza vittoria in campionato, due sconfitte in trasferta, Taranto e Avellino, due pareggi Casalinghi, Monterosi e Potenza. Il Catania se vuole evitare sorprese deve provare a sfruttare l'ennesima chance con il Cerignola in casa, squadra autrice di un buon campionato ma ultimamente in difficoltà. Non vince dal 27 gennaio e appena cambiato l'allenatore, il siciliano Giuseppe Raffaele ha sostituito Ivan Tisci. Le considerazioni sulla partita di Zeoli anche in vista della gara di Coppa Italia di martedì col Padova e della condizione di alcuni giocatori come Sturaro. Metterò la miglior formazione possibile, non guardando altre situazioni. È chiaro che poi con i ragazzi ho un confronto sereno sul loro minutaggio come è stato domenica con Stefano, dove ho apprezzato la sua disponibilità a fare 45 minuti. L'allenatore del Catania che nell'interregno fra Tabbiani e Lucarelli era in panchina anche all'andata, finì 1-0 per i pugliesi. Deve fare come sempre in questa stagione i conti con le assenze anche se recupera Cicerelli e Cianci. Cicerelli è a disposizione, adesso stiamo valutando la situazione di Celli e poi non è cambiato nulla, nel senso che gli altri Quaglini, Di Carmine, Boa non sono disponibili. Ora la classifica ce l'abbiamo tutti davanti e vincendo possono cambiare tante cose. Catania e Cirignola sarà seguita da Telecolor attraverso Diretta Stadio, le consuete tre ore live con collegamenti dal Massimino, interventi da studio e a fine gara le interviste in anteprima. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS